Cari tifosi e nobili, è stato un anno maledetto e complicato, cominciato con premesse anche di Scudetto, invece dopo una serie di sfortune e avvenimenti molto brutti, siamo qui per adesso a lottare per la salvezza, dopo un inizio di stagione molto molto complicato, con una serie di sconfitte dove l'ho sofferto moltissimo. Beh, una cosa che mi è dispiaciuto dell'anno solare è stato quando c'è stata da parte della tifoseria, di una parte, anche di persone a cui tengo e voglio bene, c'è stato un fatto di 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 fortissimo distacco sulla famiglia Foppa Pedretti che se non era per loro assieme anche a dirigenza non ci sarebbe stato tutto quello che è stato. Comunque bisogna non mollare, è stato bello che il sostegno da parte della nobiltà e della nobiltà e di una parte dei tifosi c'è sempre stata. Poi magari qualcuno ha avuto dei momenti di crisi ma speriamo tutti di ritrovarci per un 2018 che ci riporti serenità. auguro che il 2018 sia un anno felice per la Foppa. Buon San Silvestro e un augurio di buon anno e sempre forza Foppa e dal profondo del mio cuore forza Foppine mie vi voglio tantissimo bene. Grazie. 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 Grazie.